Dopo 140 km a passo di feedwalking è arrivata a Crutone il 25 aprile la carovana di Calabria Lilt Road. Il progetto ha coinvolto sei donne, tutte istruttrici di feedwalking impegnate in un'impresa, trasporto e salute. Dal 21 al 25 aprile le feedwalker hanno percorso a piedi, al passo della camminata veloce, i 140 km cost to cost che uniscono il terreno allo Ionio. Il progetto è stato promosso dalla Lilt Pitagorica e da quella nazionale in collaborazione con Camera di Commercio, Confcommercio, feedwalking nazionale dei fratelli Giorgio e Maurizio da Milano ed ha interessato numerosi territori. Pizzo, Maida, Squillace Lido, Cropani Marina, Bottricello, Le Castella e Crotone. Sono un calabrese doc ma vivo in Toscana. Elena Massoglia e sono di Rivarolo Canavesa in provincia di Torino. Com'è stata questa esperienza? È stata bellissima. Credo che questa sia stata una delle esperienze più capaci di cambiare profondamente una persona perché non era un viaggio piacevole, bello come il Cammino di Santiago, come un'escursione in montagna. Io vengo da Rocella Ionica, sono Maria Stella Riggio e ho partecipato con grandissima emozione perché sono state delle donne e delle ragazze fantastiche. Beh, ci siamo trovati a dover affrontare effettivamente il caldo che non era previsto, quindi un caldo molto più forte di quello a cui noi siamo abituati. Poi noi sono piemontese e personalmente quindi un po' diverso. Il gruppo si è amalgamato molto molto bene e molto in fretta. L'idea in cui è nata questa cosa è quella di dimostrare che il feedwalking è un'attività che aiuta la prevenzione di vari tipi di tumore perché aiuta a prevenire l'obesità e di varie malattie, da quelle cardiovascolari al controllo della glicemia. È stata un'iniziativa veramente bella perché è stata un'iniziativa che innanzitutto ha unito i territori della Calabria perché è partita da Pizzo, è arrivata a Crotone, è stata animata da sei donne, sei donne che poi provengono da varie parti d'Italia. All'arrivo ad accogliere le feedwalker a Crotone un testimonial d'eccezione, Maurizio da Milano, medaglia d'oro di marcia alle Olimpiadi di Mosca 1980 ed inventore della scuola del cammino e del feedwalking insieme a tanti amici e curiosi che hanno voluto salutare l'approdo del team. Credo sia un qualcosa veramente di importante, un messaggio doppio. Da un lato c'è la spinta, la motivazione anche alle persone che stanno bene per muoversi, per fare prevenzione primaria, quindi cercare di prevenire quelle che sono le patologie più importanti della nostra epoca, quindi parliamo soprattutto delle malattie croniche non trasmissibili. È un messaggio importante anche per, soprattutto, per chi la malattia magari già ce l'ha e ha una speranza in più perché il movimento attraverso l'esercizio, anche il recupero dopo aver affrontato tutto quello che è il percorso di cura della malattia può essere veramente un grande supporto, un grande aiuto sul piano mentale e sul piano fisico.